Nessuna squadra a punteggio pieno dopo due giornate di campionato è il segnale dell'equilibrio che potrebbe regnare in questa stagione d'eccellenza. Anche se, volendo affidarsi ai pronostici della vigilia, il gruppo dovrebbe sgranarsi quanto prima a leggere le forze in campo. Non sarà la terza giornata a chiarire le gerarchie di classifica, ma ulteriori segnali dell'andamento di questo campionato si potranno intercettare. Occhi puntati sulla Fidelissandria che dopo il successo con la sud-est cerca conferme anche a Manduria. Avversario di seconda fascia, come lo era sulla carta il Franca Villa, ma il torneo d'eccellenza è ricco di trappole. Lo hanno provato sulla propria pelle proprio i giocatori della Fideliss, inciampati all'esordio, e la conferma sia avuta da altri risultati del turno infrasettimanale. Quello che ha sancito la mancanza di una formazione leader a punteggio pieno. A guidare il gruppo per adesso sono in cinque e tra queste anche Libertas Molfette e Virtus Franca Villa, che domani si sfideranno al Paolo Poli in quello che è l'incontro di cartello del terzo turno. Appena dietro, sommando i punti in classifica delle due squadre, c'è l'impegno casalingo dell'US Cittrani contro il Galatina, con la formazione allenata da Pizzulli chiamata a riscattarsi in fretta dalla sconfitta contro il Vieste e a chiarire qual è il giusto valore da dare al gruppo dopo il brillante esordio con il Castellaneta. Non ci dovrebbero essere dubbi invece sulla qualità della Fidelissandria, soprattutto da centrocampo in su. Contro il Manduria ci sarà la conferma di gran parte della formazione impiegata giovedì sera al Degli Ulivi. Il recupero di Moscelli offrirà una chance in più in attacco, mentre a centrocampo potrebbe toccare a Riontino dal primo minuto al posto di Grieco. Con Sansonna confermato tra i pali, sarà quasi tutta affidata agli Juniores la difesa, con Corcelli e Colucci sugli esterni e De Virgilio centrale al fianco di Crescente. A completare il programma della terza giornata ci sono le gare sud-est Castellaneta, Stella Ioni Camola, Casarano Ascoli Satriano, Franca Villa Vieste, Gallipoli Studi e Quartieri Uniti, Copertino.